Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video di AppleZain.net Oggi andiamo a vedere questo nuovo tweak che si chiama Flusterless e andremo a vedere le funzioni Intanto è sviluppato da Raiden ed è disponibile gratuitamente sulla repo di Big Boss Che cosa ci permetterà di fare questo tweak? Ci permetterà di mettere un piccolo pulsante sulla lock screen che in automatico abiliterà la funzione non disturbare Infatti andiamo a vedere l'utilità di questo tweak e come possiamo vedere c'è questa pallina bianca Se noi andiamo a tirarla verso la destra ci abiliterà la funzione non disturbare Come potete vedere andiamo a ritirarla verso la destra e c'è la disabilita Quindi molto semplicemente questo tweak serve a ciò Io lo trovo molto comodo devo dire perché ogni volta non bisogna andare in impostazioni Ma quando ci serve andiamo qua e mettiamo la funzione non disturbare Qui è tutto ci vediamo al prossimo video solo su applezain.net